Signori, clicco guarda, clicco guarda Pitiful heartless, mindlessly collecting hearts The rage of the keyblade releases those hearts They gather in darkness, masterless and free Until they weave together to make They gather in darkness, masterleaves, and retain They thread upon the act of the enemy The fluency of the enemy The war is the snap of the enemy They have the last cease and the rest They have the last cease and the next cease The war is the last change The last something shall be��ed The history of the enemy The human being The situation shall be��ed The color is the last change Grazie a tutti. 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 Che sicuro. Che brutta scena l'ho vista. Grazie a tutti. Ma c'è l'occhio aranconi pure lui. Ma non è che poi è diventato... Ma non è che... grazie a tutti. Ok. Ok. Io me lo scorda... Io me lo scorda... Sti occhi aranconi... ragazzi, ragazzi. Aspetta... Oh, ma devo leggere... Oh, ma devo leggere... E c'è... E c'è... E c'è... Non sa nulla... me lo scorda... un gelato... E c'è... No, no... E c'è... E c'è... Incompleto... Ok... E c'è... E c'è... A cuore... Come mi dicevate voi... Scorda tutto quello che hai imparato... E torna alla tua teoria principale... Torna alla tua teoria principale... Sora è... Un Artlesque uscito male... E lui è il nessuno... Che accompagna a Roxas durante la sua missione... Non sembrava felice che il ragazzo non sopra scelto... Gli insegnano a combattere senza di esso... Durante il suo allenamento senza il Keyblade... Roxas è decompresa ancora una volta la forza... Tuttavia il motivo perché solo lui possa utilizzarlo... Rimane un mistero... Quindi ora ci stanno tre Keyblade... Quello di Topolino... Quello di Sora e quello di Roxas... Il mondo chiuso... Troppe informazioni... Tutte insieme... Buuuu... Durante la missione... Vabbè... Fino a qua ci siamo... Vabbè... Fino a qua ci siamo... That's why we create our own paths in the darkness... Or... So they say... Ci stanno ancora i muri qua? Come ci stanno ancora i muri? Lexius disse a Roxas che durante la missione bisogna affinarsi solo alle proprie forze... Roxas aveva semplicemente seguito gli ordini dell'organizzazione... Fino a quel momento... Ah no! Perché giustamente Sora l'ha rifatti i muri... Ok 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 scusate... Cominciamo a fare... No... No... Sì... Sbagliisce che il suo ruolo è vitale per l'organizzazione... No no no... Fatto fatto fatto... Eh... Sora aveva chiuso tutto... Aveva rifatto le barriere eccetera eccetera... Ma questa storia del comperare Kingdom Hearts vuol di tutto e non vuol di un cazzo? Vuol di tutto e vuol dire un cazzo? Dai gli sti baci stanno solo sti tre ragazzini in tutta sta città... Chi erano? Probabilmente... Solo alcuni bambini che vivono qui... Hmm... Quindi tutti si attrava così? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Sì... Sì... E avevano voglia di fare altri ragazzini? Loro campano l'economia... Così cazzo degelati... Cioè ma hanno animato solo le scene dove mangiano sto cazzo del gelato... E io boh... E' tutto troppo veloce! Roxas completava le missioni senza versarci molto... Belle queste missioni... Ok avanti veloce... Abbandonato... Nooo... Oppure lui poi si deprime che già mi sembra abbastanza depresso... Nooo... Ok... Quindi questo capitolo è praticamente tra... Il chain of memory e l'uno... Subito dopo l'uno ma prima di chain of memory... Oppure in contemporanea chain of memory... Da adesso in poi... Ma hai capito? Cioè... Hai capito? Hai afferrato il concetto? Te lo ricordi? Axel... Ho un messaggio dal Lord Xemnas... E però... Zemnas è un anagramma di Ansem... E' un anagramma di Ansem... E' un anagramma di Ansem... E' un anagramma di Ansem... Certo... R dise... Un'anagramma di Ansem... Oh... Ah... Gente è proprio bene! Sta tutta a Castello dell'Oblivion! Ah... A gente è proprio me che resta tutta Castello dell'Oblivion! questo lo conosco quello ce l'ho presente cioè a livello fisio non lo so perché hai parlato sveglia e se ne va ma io boh ma perché la X che faceva figo la X se zoom tutto è troppo veloce ancora attenzione ah ok beh giustamente è la tipa della copertina si è innamorato lui presa ahie di tutti proprio il dark side è scomparso guarda che Axel si incazza quando torna è gelosino tu l'hai già rimpiazzato non si fa così sei un pezzo di merda per la gna gna per la gna gna non si fa non si fa non si fa però parla di Axel ma c'è 358 giorni e mezzo mangiare i gelati ma non è che è il mio preferito è l'unico che ho mai assaggiato in vita mia e quindi è il mio preferito ok Lei è la nessuno di chi? Tanto tutti quelli dell'organizzazione sono nessuno. Ah ok, abbiamo già superato il castello dell'oblio? E' già! Che se ci vuoi tanto sei girato i panciati, che stagia carina. Ecco. Ah, quindi sono morti per davvero? Cioè, Vexen, Raxin, Marlucia. Mi ha fatto davvero brutta fine. Oh! E' cala? Eh! Ci contatta? Da nulla, spunta lei! Un incubo! Tu che sei? Togli del cazzo di cappuccio! Togli del cazzo di cappuccio! Togli del cappuccio! Ci fanno vedere un cazzo, ci fanno vedere tutto e niente! Pezzi di merda, pezzi di merda, pezzi di merda! Ok! Sono un genio! Sono un genio! Sono un genio! Sono un genio! Le mie teorie sono un cazzo giuste! Sono un cazzo giuste! Buongiorno però! C'è un po' di noccio! E' morto! Perché mo' questa può prendere il Keyblade? Per la nessuna di Topolino! Unica spiegazione! E la madonna! Per quanto è rimasto svenuto? Sette anni e cinque giorni! C'è! Capito! Vole le mie teorie! Mi ricorda qualcuno sta roba! Mi ricorda molto Sara questa cosa! Che gli hai portato? Che... Ma non ci fanno vedere un cazzo! Ci fanno vedere tutto e non ci fanno vedere niente! Le conchiglie gli ha portato! Le conchiglie! Le conchiglie! Questo non si è svegliato! O si è messo a dormire, si è messo a dormire! I knew that I'd find you snoozing down here Ma mo' la voce di chi è? Buongiorno, eh! Ah, peggio di me! Ma mo' rimane proprio a lei di Isa Rimane proprio a lei di Isa adesso C'è più nessuno? No, che già c'ha tanti problemi questo Oh! Ma tu chi cazzo sei? Ma io co' ste conchiglie Che è ad Agrabah? Dove la piera conchiglia è ad Agrabah? Eh? Eh? Shion palesemente Namine però Con la tinta Infiltrata Ignorava il destino Dei membri Inviati al castello Dove l'obbligo Raxos Dove è a computare una missione da solo Infiltrata? Infiltrata? Perchè hanno paragonato la loro scena a Kairi? Quanti nessuno ha a Kairi? Si può avere più di un nessuno? Ha completato solo le sue missioni giornaliere Minchia, è peggio di Riku Screenshot di videogioco Vabbè Settanta giorni Riunione Ah Ah Gomba risciuto Erin L'ha fatto fuori lui La roba Ma i costini gelati Abbiamo già superato i 358 gelati E appunto Però lui nel castello Ha provato qualcosa Tipo divertimento Se non lo parlo male Ste visate raga Sono proprio Inquietanti No glielo di E gli ha detto Guarda l'ho incassato nero Guarda l'ho incassato nero Guarda l'ho incassato nero Lo spinge di sotto L'ammazza Perché io mi ricordo Di questo Ma è Sion sotto copertura? Dove ti ho già visto? Dove ti ho già visto? Eh ve l'ho detto Che hanno mandato Quelli problematici Ah Era un suo piano Magari Sion stava lì Tipo Super visionare Eh Sion Mi è dispiaciuto Però Non era un suo cattivo Ma allora che cosa ha fatto Poi sti gelati salati Se non li comprano loro Ma che cazzo Li compra Ma che merda è? Ma che merda è il gelato salato? Eh sì sì Forse sta parlando di Sora Roxas era preoccupato Perché non vedeva Sion Da più di 10 giorni Ma vanno ancora Mantenuto la loro promessa Di andare a mangiare Sto cazzo del gelato Con Axel Tutto gira intorno al gelato In realtà Kingdom Hearts è il gelato Ah Una rana Ah eccela E se l'è mangiata Ma proprio di lì Al cancello sta lei Ma tu hai fatto Così ha ucciso Vex Cioè nel senso Nel senso No è morta No ma non c'entra Cazzo con noi C'entra proprio un cazzo Sì lo stavo pensando davvero Che era infiltrata Sì lo stavo pensando davvero Sì lo stavo pensando davvero Che era infiltrata Sì lo stavo pensando davvero Oh finalmente Tutti e tre Attenzione La gelateria ha aperto Ha aperto un locale in più Perché adesso I guadagni si sono triplicati Ma perché compare il cappuccio Ma perché Ti prego Mi distrago A parte che non era tuo A parte che non era tuo il Keyblade Ma perché tu C'hai il Keyblade Hai notato? Adesso noto I'll be useless Is there anything you can do, Axel? I wish there was But It's just like she said Without the Keyblade She can't collect hearts And once they Find out They're gonna turn me into a dust We can't do anything? I already told you There's nothing we can Hold on Did you think of something? Roxas You can work double duty Certo Cioè se parla tipo con Axel C'ha il cappuccio Nel senso che Solo Roxas riesce a vedere Il suo aspetto Solo Roxas Riesce a vedere Non è che Non è che Si mette un cazzo E quindi E quindi Mo Mo che sono amici Può vedere Non ho capito Che problemi c'ha poi Che non si può far vedere Roxas e Shea Andare amici insieme Come suggerire l'Axel Si ma sempre i stessi mondi Ma gli pesava il culo Fa dei mondi nuovi Vabbè Incontrò l'amico di Aladin Il genio Durante la miscena Quando il genio Provò a usare la pagina Per riparare i danni Causati dalla tempesta Di sabbia Roxas glidiste Che Aladin Voleva ricostruire la città Usando solo le loro forze E' importante Questa cosa E' importante Il genio Rispettò la decisione Del suo amico E non usò I suoi poteri magici Roxas pensò A cosa significasse Rispettare la decisione Di un amico Importantissimo Da gelato Ok adesso la vede Anche lui Sì tutti questi gelati Sono magri così Cioè vabbè Bruciano con gli applaus Che tristezza Guardalo L'hai depresso Con una frase Un pugnale dritto al cuore Ah no Ah no Kingdom ice cream Dove cazzo siamo adesso Buongiorno Tu sei quello che dico io Poi ti è successo qualcosa E sei diventato Ti Sicuro Un incidente Terribile Chi t'ha fatto? Chi t'ha fatto diventare Come il dischi? Chi t'hanno fatto? Lo menamo Lo menamo Forte Let us remember Why we are here And what we hope To achieve Hearts shall be gathered And be made our own Hearts shall never again Have power over us Contro quella di L'ammazzammo La pig Cioè non si può rovinare Tanta belletta Ma anche il doppiaggio Mi sembra simile A quello del dis Bello profondo Ecco E fin qua Ma mi sono un po' Una cazzata L'organizzazione È un gruppo Di nessuno Che vuole un cuore Non sono cattivi Ma lei Sbattia il cazzo Dove avere un cuore Ma cattivi De che? Cioè nel senso Uccidono gli Heartless Alla fine Gli Heartless Vanno A rubare altri cuori E creare altri Heartless No C'è vero Cominciato ad abituarsi A andare in missione Insieme Sì Tanto lei Non fa un cazzo Non è Unice Unique Even nobody Molins Non 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 Eh ma voi c'avete il Keyblade, è il pass, è il pass il tuo nessuno. Eh? Mi? Oh, non so. Penso che ho sempre stato molto stesso. Mi piacere che io potrei ricordare cose così. Sì? È solo un soldato, sai. Ma... Non ne ricordo nulla cosa, non anche quando ero... un nessuno. battodona gelosino gelosino basta gelati no roxas no ti prego no non chiedertelo a ridaglie che stanno qua davanti smontato tutto smontato tutto informare alla sykes che non sarebbe prendere missione con roxas era preoccupata perché non riusciva ancora lo sa il suo keyblade roxas non le prestò il suo grazie grazie roxas tu puoi avere questo ti ricordi qualcosa? non lo so ma mi provo ah lo stesso keyblade anche io voglio un keyblade madonna santa il jump scare di roxas ci siamo fidanzati che lindo tu hai parlato di gelati no i rubano perché loro sono cattivi ma lo so cattivi uccidono gli heartless gli heartless effettivamente attaccano le persone quindi va bene poi a quanto pare loro cercano solo di avere un cuore per essere qualcuno per essere completi un po' come gli heartless perché anche gli heartless cercano i cuori però non per loro stessi oh Gesù Cristo che ansia sono terribili queste risate oddio che è sta cosa brutta ricordo la sua keyblade ritrovo una sola dimissioni bella questa che sia giornaliera attenzione insieme ad un'altra gente c'è andato bella quella con la chitarrina ok è passato un sacco di tempo è passato un sacco di tempo che succede so che succede non ho capito non ho capito chiedere che c'è che succede che stanno a cercare è un tesoro chiedere che c'è chiedere che c'è il castello c'è il loro nessuno è spawnato nel castello non ho capito non ho capito eh magari il vero scopo sarebbe interessante ma quindi stanno a cercare la sala dove dorme Sora che poi ormai ci sarà già sviato e sarà andato via credo che dammi ne sa dov'è e loro no ma Zexy è un forello cioè nel senso e quindi hanno detto che sia quella 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 camera dove c'erano le cellette dei ricordi e non ci hanno ma come si arriva a sto cazzo dei castello e l'obbligo ancora non l'ho capito Roxale e Sigbar stanno esplorando un nuovo mondo durante la missione Roxale qual è il loro obiettivo risposta che stava cercando così per l'organizzazione solo dei nessuni speciali possono essere accettati disse che era proprio per questo che Roxale e Sion facciano parte dell'organizzazione e nessuno che sanno usare Keyblade tra virgolette e che bohanti ce ne stanno che sanno usare Keyblade attenzione mi sento viva ma è possibile che un altro nessuno di 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 Kyrie ma possibile ma Kyrie non c'ha il Keyblade poi però è una principessa non so perché me ne avevano in giro e le principessi si dividono in tre perché si sembra che te lo stanno proprio imboccando il fatto che sia il nessuno di Kairi a meno che Namine non sia il nessuno di Kairi ma sia una cosa diversa e il nessuno di Kairi sia lei primo giorno di poso di Roxas c'era una voce per il castello si annoiava nemmeno chiede l'aiuto ad Axel e se serve qualcosa il suo solito pasto il suo solito posto non pasto che loro hanno preso i ghiaccioli wow wow solo quelli vendono ci sono altri gusti hanno animato più gelati che altro in questo in questo gioco non 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 è molto più veloce la vacazione? cosa è quello? è un sogno come true è quello? un anno off? non lo so 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 ovviamente sempre i ragazzini ovviamente sempre i ragazzini and then help each other finish it that sounds fun I guess hanging around with friends is fun I'd forgotten all that since becoming a nobody I guess so how did you spend your day? ok guys how did I know you'd be here where did you go? I didn't go anywhere sette giorni massimo what about you two? did you guys go somewhere without me? Axel says he was asleep all day what? what's that about? you wasted a day off? unlike you two lazy bones I work hard so I'm tired ok? unlike me and Roxas maybe you're just out of shape e magna tanto gelato in pasca con le pene tagliate no tomorrow it's back to work si vabbè ma cioè questi stanno sempre in vacanza stanno qua a mangiare i gelati in giorno si e l'altro pure I might not see you guys again for a while huh? they're sending me out on recon for a few days where? can't tell what's up with that? what's up with that? it's a secret mission secretissime I thought we were friends hey I'm not about to tell you all my dark secrets got it memorized? Jesus Christo che ansia haha I'm kidding I just gotta keep my mouth shut about it or else Ix will get on my case you know how we can get yeah try not to bungle everything while I'm gone, huh? now why would we do that? well considering your track record I just can't count on you guys hey we can handle things just fine ma quale tipa poi just you watch stanno sempre li a mangiare i gelati? cioè what took you so long? it's my vacation I can take all the time I want I can take all the time I want this is what happened to you you're letting yourself get too attached to them yeah yeah whatever you say you know you know you changed anche lui ha gli occhi a ragione you know you know you know I'm sorry I'm sorry I'm sorry you know you what I mean I have to ask you what he told you during the mission and they did and they did not I don't know I don't think this is I will end con le sue missioni giornaliere ah ok intanto Axel si sta affrontando una top secret quello che va bene si però anche meno ciao Simix ciao Simix ciao Simix questo silenzio non è da lei ma io ti tardo un giorno si e vinti pure vabbè non è un po' Grazie a tutti. Non ci avevo visto male allora. Ma non hanno fatto mai vedere Riku in questi filmati. Ma la fanno vedere qui state botte di Shion. E' gelato, è gelato. C'è la cosa che non vuoi perdere, è gelato. Ma Demiqs non ha un cuore. E credo che si è scoperto se si prende la sua sita. Credo che hai un punto là. Quindi non hai un cuore per avere qualcosa che non puoi perdere. E' bello se ti è uno che non ce l'ha i ricordi. Ciao Gigi. Ma come non lo sai? Ma Demiqs, ma che cazzo vi serve il cuore? Cioè, vi vede anche senza? Forse sono un'ossessione? Il ricordo del sentimento. Ma alla fine nessuno potrebbero benissimo vivere per cazzo di loro. Comunque, caso volle che Roxas e Shion fossero segnati allo stesso come caso volle. Shion non riuscì a eliminare un postole e i riprovi, io so, di Sykes, la incristirono. Allora ragazzi non ci potevano farlo dare a Roxas, il quale non sapeva cosa dire. Ragazzi sono giusti di andare in missione insieme per tirarla su di morale. Minchia, che palle questa! Ah niente, questa pensa sempre a questa scena. E' Gojo! Tizione, Gojo in realtà è un plagio. Giusto. Lui non ha fatto la cerimonia. Guarda pure lui! Ok, nemmeno il Kiblet che non è un Kiblet. Ma allora è ricco, ricco! Ciao Darkness acqua! Mi è arrivato. Ah no, allora è... E allora fermi tutti. Cioè lui è realmente il ricco fasullo? Che però è rimasto lì per sora? Confusa. Confusa. Brava, brava! E' una sessiona. E' una sessiona. E' una sessiona. ma in realtà anche in chino nel diario di Ansem si parlava di heartless ossessionati dal cuore quindi potrebbe essere questa cosa per il nessuno semplice ossessione non ho Ipe Escape no gli ha dato il gelato questo gesto è gravissimo questo gesto è imperdonabile non ha mangiato il gelato il primo gelato non ho mangiato colpa al cuore veramente se ne è nata non ha mangiato il gelato cioè che affronto non lo so non lo so così me lo butti davanti agli occhi lui che passeggia Sora che passeggia così tanto per Roxas stava pensando allo strano comportamento di Shion Axel gli chiese che cosa lo preoccupava e disse che le ragazze sono complicate ci sono questioni che vanno evitate Roxas temeva di aver detto qualcosa di sbagliato a Shion ma Axel gli assicurò che andava tutto bene ciao Shinnok da quanto tempo? tutto bene tutto a posto ma i nessuno hanno il ciclo il sale marino il gelato al sale marino beh questa cosa di guardare Ercole che si allena Roxas si chiede se l'organizzazione non la pensasse allo stesso modo mi si vedeva sempre visioni impegnative Roxas però non capiva bene il significato di aspettabile ma quando si era separato con imbarazzo da Shion Roxas mangiava da solo il suo gelato dopo le missioni che tristezza che tristezza affetto prima di tornare al castello Roxas vivde la bestia ferita per aver protetto ciò che le stava a cuore è bello che si stava prendendo cura di lui tra di loro era nato l'amore Xaldin disse che il potere dell'amore era inutile ma Xaldin non capisce il cazzo Roxas gli chiese spianzioni ma Xaldin disse che un nessuno senza cuore non l'avrebbe mai capito e se ne andò gli è brucia Xaldin ha lasciato solo Roxas si chiede cosa potesse essere l'amore ecco fin qui ci siamo ma che è un album di figurine Kingdom Mars ce l'ho ce l'ho ce l'ho mi manca suono delle onde ma lo sai questo scatto felino prima di andare in missione con Luxord Roxas vende a sapere che sia non aveva finito un'altra missione e che era caduto in un sonno profondo Roxas in ordine e andò nella stanza della ragazza no no non si fanno queste cose portare le conchiglie non si fanno non si fanno non si fanno non si fanno Per chi è? Non ho niente più da dire. Sikes non avrebbe più considerato scivano un fallimento. Questo rendimento fosse migliorato. Ma in realtà è tutta una bugia di Axel per tirare Rockstar su di morale. Che casino cos'è il nome? Che avrà fatto diverso? No, 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 no. Vado, vado e prendo in tralciano Rockstar. Ah, vado, vedo e prendo. Ok, il terzo era Rockstar. I tre sostenevano che fare scherzi. Non era così? Felice? Non lo so, non ho letto. Rockstar continuò a completare le sue missioni. A coprire... E a coprire, Sion. A coprire? Che conchiglia. Ma non è vero, c'è un sacco di femmine. Già l'Arxin è femmina. Sora! Whoa! Uh... Good morning, Sion. Oh... Morning. Ha senso che lei sia il nessuno di Kairi. Non ha senso Namine. A questo punto... Namine è il problema. Ha senso che lo sia lei, non Namine. Avrà qualche collegamento a Namine, ma non è. Almeno che lei non ce n'ha due, perché... Oltre sul, non è un problema che noi e Axel stiamo affermando... Ci sono sconti. Lo scontrivo su questo. È un po' vero che non possiamo sentire nulle. Non ci sentire nulle. Cosa, Nico? E' morta. Problema risolto. E' vero. C'era la scena iniziale di quando ha iniziato a sgredolarsi l'isola, in cui Sora e Kali si erano, tipo, toccati. A meno che non è un fantoccio tipo Riku. Cioè, lei è la finta... E' la finta nessuno di Kairi? E Namine è quella vera? E' perché ha un K-Blade? No, Axa, non diventa cattiva. No, gli fa i traumi. Gli fa i traumi? Esperimento fallito, sì. Ah, ok. Pensavo che diceva qualcosa di cattivissimo. Non stavo più pensando ai fake. Non stavo più pensando ai fake. Però ha senso. Però Riku è venuto uguale, uguale, uguale. Lei no. Lei no. Ma perché c'è il K-Blade? Senti, tu sei pericolosa però, eh. Ma perché lei sta ancora qua dentro? No. Perché lei è ancora là dentro? E Axel è, sì, terrorizzato. Eh, non ho letto. L'ho fatto in tempo. Ma che cazzo è? Ah, come si divertono con Trilli. Oh, che carini. La polvere magica. Ma come rimane se è piantato per terra? Guarda lì come vola. Non la volevo vedere, questa scena animata, però. Sarebbe stata bellina. Pensavo di completare le sue missioni. Ah, ma lì c'ha le carte. Bello. Oh, beh, te lo ricordi, eh? Mi toccherà iniziare a fare pure a me come fa Axel. Ogni volta che vedivo qualcosa, memorizzatelo, eh. Ok. Ok. Sarà, wake up! Ok, quindi non su tutti. Non può fare come gli apari. Non ho capito un cazzo di quello che hanno detto. Non ho capito un cazzo. Non ho capito niente. Non ho capito un cazzo. Cazzo di Oblivion, certo? Sì. Cazzo di Oblivion. si andrà al castello obbligo e li fanno le copie oh no e niente oddio che ansia che pura ma come fanno ad entrare i ricordi dentro a roxas beh come sono entrati i ricordi di roxas dentro a sora in modo mistico oh mi spiace faccio un gelato con i zuccheri io non ho un costume ma perchè sa usare il keyblade? un keyblade falso? ma un keyblade? di morale se ne andò senza aver mangiato ah è già il secondo un gelato che non mangia infatti ho slash due sui due gelati che Shion non mangia tutto insieme al mare come avevo detto quel giorno prima tra le informazioni che Sykes aveva inserito a proposito del castello ok siamo tornati a 255 il giorno più lungo ciao giocati tesoro sem troppo vero tesoro sem troppo vero non ci si chi è chi è chi è chi è chi è accettato il nostro computer principale senza autorizzazione e ti aspettate a noi per credere che non sappi chi è stato come se La poppetta sta diventando un problema Non senti Non vedo nessun problema Ha ha No, apparenamente non Algo che ti trovi divertente Ah, le cose che ti senti da un ragazzo con nessuno Non importa cosa succede Nessun plani restano non cambiati Axel, Roxas Ma posso capire qualcosa Quando tu parli? Shion is marching right into the arms of destiny But to destiny's own time We need not take any more steps All we must do is watch with caution and patience Ok, quindi è entrato nel castello Come c'è arrivata in castello? E invece Axel Don't be selfish Or else they'll turn me into a dusk? They'll do worse than turn you into a dusk They'll just destroy you And is that because I'm useless? That's not it Shion Go home I'm remembering things I have memories I have memories of back when I was a human Well stop remembering Nothing good will come of it I have dreams every night And you're in those dreams And they sure aren't memories How can I be a part of your past? They're just dreams That's all You can't fool me We've met before Axel Right here in this castle No, we have not Let's go home Shion Don't keep Roxas waiting Hanno preso un po' di Sora Un po' di Kairi Shion Non devi entrare nella porta Mi rimasta solo bello You're early No, you're just late L'hai traumatizzato tu? It's not like I have memories From before the organization Don't you remember? I acted like a zombie Right, that first week You could barely form a sentence But come on You're still kind of a zombie Oh, thanks Hey Roxas Bet you don't know Why the sun sets red You see Light is made up of lots of colors And out of all those colors Red is the one that travels the farthest Like I ask Know it all Hahaha 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 Seriously, where is she? Complimenti Vale Complimenti Vale Dovita Nella stanza circolare Xemnas informò i membri dell'organizzazione Della scomparsa E per il piatto di inseguire La Marloxas Non era d'accordo Con la decisione Disse che avrebbero Dovano cercarla Non gli fu detto Che tutto sarebbe stato chiaro Al momento giusto Xemnas Chiusa Io non ero con queste parole Xemnas Xemnas John Non lo love Xemnas Non lo dare più Alla storia Adam O se Roxas mangiava da solo il suo gelato. E se la frase più triste dell'universo. Mangiava da solo sto cazzo del gelato. Brivido. Brivido. Perché il gelato è salato. Non è dolce. Corri. 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 Perché mo c'ha un po' di ricordi di Riku? Un ricordo univoco C'è un po' di ricordo Ma perché mo c'ha l'occhi? Ma se le mie ricordi e le mie ricordi e le mie ricordi sono completamente riuscite insieme Ho bisogno di rinunciarli da un'altra E questo prenderà più tempo Diventa maggioregne praticamente E le mie ricordi di Riku E le mie ricordi di Riku C'è un po' di ricordi? C'è un po' di ricordi di Riku Ma ora C'è un po' di ricordi che è chiaramente visibile C'è un po' di ricordi che ha entrato le ricordi di Riku Le ricordi di Riku Le ricordi di Riku Le ricordi di Riku E le ricordi di Riku Allora Che casino Che casino Che casino Ma vedi che l'idea dello schermetto non era male? Non c'è un po' di ricordi di Riku Non è come sono ora Ma Ma Che cosa necessitaria di essere come tu? Minchia loro vogliono essere completi E lei vuole essere come Nessuno come loro Ma che cazzo È un po' di ricordi C'è un po' di ricordi di Riku Quindi L'hovo a la piazza oggi E c'è questa ragazza che si sembrava Un po' di ricordi di S.H.I.E.L. Ma non potrei essere vicino Per direzione Probabilmente ho pensato Per essere sincero Non è sicuro che la missione di oggi Si è un po' di ricordi di oggi Mi sembrava che ci sono iniziato da un sogno o qualcosa Mi ricordi la nostra promessa? Quando abbiamo detto che I tre di noi andiamo alla piazza Nel prossimo E magari questo è quello E magari ho visto a Shion Perché io voglio che L'hovo essere qui Ma quindi quella scena dell'albero non è mai successa? Mmh Sounds good Let's do that Quindi lei non sa niente O forse magari sta dentro il cazzarello blu qualcosa Cos'è vero? Cos'è finto? In controllo enigmatico stregaccia Ci smette pure questo Prima di sperire il filo risposa alle domande di Roxas Invitandolo a seguire E il suo cuore Piupitupit A decidere cosa voleva credere Avere un cuore Avrebbe risolto tutto Anche aveva in Shion Roxxon non rimase per pensare cosa avrebbe potuto credere Anche se non aveva un cuore Ok non è come lo sai quel cuore che non ha tanta pazienza Ma scusate Axel sa che è nel castello blu Quindi Axel sta mentendo A Roxas O lei non è più lì E il giorno prima che si scusate Si 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 Ma non c'è più Non c'è più Non c'è più Si 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 mezza verità non può essere nessuno di Sara sarei stupido però lo so pensando anch'io preoccupato preoccupato perché loro due c'hanno i problemi? lui non può essere un fake hanno detto palesemente che c'è il nessuno un po' è un fake anche chi? chi? ah è giusto giusto è un amine che cerca di riprendersi quello che gli serve chi è? se ne va chi è? chi sei? e ovviamente non te lo dico tutti o nessuno potresti essere possono essere tutti dal mio punto di vista ok perché hanno detto tutto fa sta cosa? cioè che senso aveva fare questa apparizione? ok Io, dove hai venuto? Axel e io sono andati all'interno per te. Hai? Scusate. Andiamo a casa. Se volete volentieri, Saix ci farà tutto questo. Ha dovuto. Non mi importa cosa ha detto a te. Spero qui. Me e Axel ci faranno sicuramente... Ma dille le cose! Hai tirato fuori qui. Che si picchiano? E la madonna! Cioè, si picchiano perché lei sa che lui sa? E però lui non ha detto? E quindi? Sora. Ooooooo! ooooh lea qui, lea cosa bisogna sapere sobre cosa? Xion mi conta cosa suda Xion è un membro valutato dell'organizzazione ma ha bisogno di restare quindi non preoccupi non Sora Sora chi è Sora? la connessione connessione? è quello che rende a te e Xion parte della vita la connessione e la ragazza che ho messo Xion nella nostra se vuoi che lei resta in questo modo devo insistere perché Xion è sora su colleganti io vi faccio Xion tornare alla domanda oggi devi concentrare sui mi sono persa regalami tra Xion e Sora cioè vabbè si stanno riversando i ricordi ma perchè? qual è il motivo per cui si riversano i ricordi a Xion? dentro Xion in Grazie a tutti. 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 Cioè lei doveva essere sora? Grazie a tutti. È complicato. È complicato. Finchia che allegria, non ci stanno i gelati, sono tristi. Non ci stanno i gelati. I'm sure you understand, Amine. Yes. Hai riperto la gelateria, è tutta a posto. Era la Cacci per farci vedere che aveva riaperto la gelateria. Era la Cacci per farci vedere che aveva riaperto la gelateria. Nessuno può piangere, tecnicamente no. Roxxas era sempre più debole da quando Sion era tornata dall'organizzazione. Sembrava che la ragazza guadagnasse l'energia mentre la sole perdeva. Sarà il Kipnick, sta avendo un effetto negativo su di lui. Lo sta assorbendo! Lo sta assorbendo, lo sta assorbendo! Glutti! Lo sta assorbendo! Le tue? Lo sta assorbendo! che io sono te e tu sei me più o meno tu non l'ai combattuto, non? come si potrebbe? come si potrebbe attaccare a te così? a te attaccare? significa Axel? ma... non sarebbe stare qui con te se Axel non avessi fatto è il tuo migliore amico lo so, ma anche tu non è proprio la stessa senza tutti noi Axel! hai bisogno di qualcosa? beh, um... qualcosa è vero con Roxas non sai perché? non è vero con te dice che la keyblade lo spettaccia quando va a usare e oggi stavo combattando come Roxas sai più di Roxas che ora sai stavo 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 Perché l'organizzazione voleva fare una copia? Di Sora avendo Roxas Che cazzo ci fa? Attenzione Auriglia tutto! Ciao Palla di Neve! Ciao Vincenzo da quanto tempo? Perché voleva fare una copia di una cosa che già aveva? Complicando tutte le cose Non potrebbe ottenere una mente di sua propria E diventare la persona che vediamo Ma alla fine Solo prove che la copia è il più vero Il tempo è arrivato! Ma avevano Roxas Perché dovevano farne un altro? Ma infatti C'avevate già Roxas? O l'avevano creata prima Di aggiungere Roxas? O non... Cancelare c'è la missione di organizzazione Non so se non è compagabile Ok O non so se non è compagabile Sì 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 Ah, che lui? Ah, che lui? C'è quello? Xion. Voi te ricordi. Voi davvero appartengono a Sora. Quindi vuoi dire che sono una parte di lui? Quando i loro ricordi erano scattati, alcuni di loro... trovano il modo dentro di te. Ora... Sora è stato preso a dormire, per che possiamo riuscire la ricordazione sua ricorda. Genial! Potresti anche non rompere i coglioni, volendo. Potresti anche non rompere i coglioni, volendo. Certo. Figurati chi ti realmente necessita più. E dove ti appena. Cioè, come saprei... dove appena? Visto. Non sono sicuro... hurry! I can promise you I'll come up with the right answer! Well, the answer you come up with? planing is not just the right for you. It has to be one, and works best for everybody, you, your friends, and everyone else! mi rispiegate perché lei fantoccio di Sora è donna e ha la forma di Kairi cioè nel senso somiglia a Kairi mi ricordate questa cosa che l'hanno spiegata prima me la sono persa cos'è che è successo? perché lei ha preso questa forma questa identità? sì giocati e ne è rimasto solo uno che giustamente l'organizzazione ha detto non mi interessa se l'uno o l'altro è tanto uguale ma io non capisco il creare Sion perché? ne avete mangiato i 700 li avete buttati e avevate vinto 70.000 premi aveva vinto cacchi gelati cosa vuoi dire che non lo sai? beh beh deve essere qualcosa di niffico se sei un giocatore, certo? ecco wow il sole è bello e perché anche Axel la vede come come Kyrie e perché il fattaccio di Rick invece il volto ce l'ha e in queste scene si o forse l'hanno solo convenzionata nel senso vedi tutto dal punto di vista di di Roxas e basta per non fare sempre lo scambietto sembra che ci siamo arrivati a un standstill sì questo è stato fatto molto lungo Ricku credo che sai cosa deve essere fatto sembra che tu hai meddato scusa, hai detto qualcosa? l'organizzazione non necessita non so troppo nomi non so troppo nomi tra l'altro il cappuccio ognuno la vede a cazzo di cane? va bene ognuno la vede a cazzo di cane ma scusa è morto? e lui la vede così la vede senza volto e che come l'hai visto? ma che cosa ho visto? Sigbar la vedeva come come Roxas perché lui sarebbe inutile rispetto a vabbè perché lei sta assorbendo perché oh di dio però anche lui potrebbe assorbire perché? dove sta? where is she on? she flew the coop flamesylocks here couldn't trouble himself the clipper wings what does he mean, Axel? your friend sat there sucking his thumb while she on walk right off i'm going back to my room Perchè hanno creato Shion? Perchè hanno creato una scuola che ti riflessa. Tu non fai nulla sensazione. Shion è una scuola che creata per duplicare i vostri potenti. Sei una scuola? Shion è una persona, non una scuola. È una scuola che riflessa a te. E quando ho guardato nel scuola, non era tu che ho visto. Shion è Shion! Non puoi aspettare a essere io! Non è quello che voglio dire. E' solo un po' di tempo, prima che qualcuno la scuola. Tu vuoi dire... che hanno di distruttare? Mi rispondi! Roxas... Se qualcuno non, tu non sei mai tu. Poi le vanno due qui, Blade. Ma perchè noi continuiamo a vederla come... come caire. Mentor ambientato. ... 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 se solo le rispere del topo portavano al basso Axel queste ordini erano assoluti ancora qui, Roxas? Procedi con la tua mission Shionis She's not a puppet A puppet couldn't be part of the organization Just count the seats here We have and always will be Thirteen Axel Maybe it's best If she'll never comes back to the organization Do you really Have to do What Xemnas says? If I don't They'll eradicate me next In that case Can you at least Try not to harm her? That's up to her Roxas Shion is dangerous Dangerous? Per lui, sì Have you got all your strength back? Not yet How long have you known about her? Eh 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 Could it be That you've known about her for a long time And not told me anything? Ah Devo andare Oh, Gesù Cristo Proprio ti ho nominato Proprio in questo momento ti ho nominato Oh, Gesù Cristo Ha senso. Ha senso. Ha senso. Ok, è quello vero. Perché avevo l'aspetto di Ansem? Cioè è ok che una piccola parte di Ansem è dentro di lui, ma quella non era una piccola parte. Questa è la mia piccola parte di Ansem? Che è la mia piccola parte di Ansem? E ora non è perché la diplettione in membri hanno fatto loro forti. Le prendere Sorra a parte di un'esprezzi, da parte di una parte di un'esprezzi, era solo il primo passo in quello che stavano a fare in Ansem? e credo che hanno bisogno di più tempo per riuscire la sua memoria sai, tu e me stavamo guardando l'organizzazione ma quello che ho vede non sembrava molto, quasi come si stanno cercando di acquistare qualche tempo certo, le memoria Zora sono quello che stanno e hanno bisogno di tutto questo tempo fino adesso per absorbere ogni pezzo il processo di mettere la sua memoria si non è andato hanno quello che è più precioso di Zora la sua memoria di Kairi allora devi mandare a me aiutare magari potrei riuscire le memoria ho avuto la sua memoria ho avuto la sua magia cioè, Miki invece voglio chiederti a te per favore non ci sono Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 no Vabbè da ciò Forse ci sono due fantasci però no perché con Axel parlava di due differenze sostanziali non mentire bello si cazza, si cazza guarda che ho problemi mentari anch'io se non me lo dici ti prego Axel ti prego no non devi rompere i coglioni io e Roxas sono uguali 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 nooo corigino a questo punto ho senso che sia ah ho vinto lui ha trovato tutti i bastoncini un barile così di bastoncini arrivati a questo punto ha senso che lui sia un fattoccio cioè anche lui sia un fattoccio a questo punto ha senso Axel dillo sei un coglione sei un coglione vabbè da ce lo dico ce lo dico ce lo dico per forza ce lo dico lei la vede come Shion? il nessuno di Kyrie? perché lei la vede così? sì in realtà a prima cosa voleva essere con Roxas e Axel sempre ma poi ho iniziato a capire che i miei ricordi no non sono proprio miei sono non sono Sora e non è Roxas sei Kyrie se ora non ricordi come mi ricordo più di mio passato, più sento la necessità di tornare a qui venivo, cosa devo fare, per tornare? Sì, stai tornando a Sora? Se torneri le mie ricordi a lui, avessi avvicinare. In grado di non avere le mie ricordi, sei collegato con le mie ricordi di altri. Quindi quando avvicinare, nessuno ti ricorda, non ci ricordi. Non ci ricordi nessuno che ricordi. Per tutti i poteri che ho possesso, non posso mantenere ancora un pezzo della ricordi che ti chiede. Sì, sono pronto, altrimenti non sarebbe qui. E anche so che Roxas dovrebbe essere tornare con me. Ma... ma non credo che lei capirà, non ancora. Sì, Roxas non può sentire ancora ancora. Nomine... Sì, per favore essere tornato a Roxas. Una volta che sono tornata... Non ci ricordi. Non ci ricordi. Io ho chiesto di qualcuno anche. Non ci ricordi nessun altro. Non ci ricordi nessun altro. Non ci ricordi nessun altro. Non ci ricordi. Grazie. Sì, se sei pronto... Se sei pronto... Let's go see Sora. Amine, sono loro. L'organizzazione ci ha trovato. Sono quasi qui. Questa scoperta ha portato loro fino a la nostra porta. Vedete quello che hai fatto per la fiducia. Posso capire questo. Aspetta! Xion! C'è io? Perché ho sempre incontrato con iche jobbi? Axel? Xion! Cosa ti farei? Ho deciso che ho dovuto tornare a dove mi appena. Beh, per essere sincero, ho sempre sentito che sia il meglio proprio dal primo inizio. Ma sai, è ancora un po' mi piace. C'è qualcosa di questo che fa male. È per il bene di tutti. Ma come sai questo? Tutti pensano che è vero. Questo è vero. Sì, è vero. Per favore, non guardatevi, Axel. Mi prometto. Qual è il tuo problema? Eubo, credo che puoi fare cosa vuoi. Ho fatto anche un po' di Axel. Allora, riportatevi indietro. Oh no, tesorino. Tesorino, non fare così. Un sacco di patate, praticamente. Questo è aspetto. È vero. Quecola. Non è vero. Ma non. No, non vero. Sì sì. È vero. Ha un'era! No! È vero! È vero! che paura non la vede più non la sta vedendo anche se non sono pronti ho bisogno di fare questa scuola tu mi ha portato tantissime mi ha portato tantissime mi ha dato tanto che mi sento che mi ha portato a trasferir guarda me, Roxas chi ti vede se ti vede a qualcuno o un bambino e questo significa che sono quasi pronti questa scuola dovrebbe giocare la parte Roxas questo è lui è Sora tu è prossimo Roxas mi sono persa mi sono persa mi sono persa che che si è successo che che si è successo tu non non era la mia scuola andare fuori ora meglio di questo che fare niente e lasciare Zimless ha avuto il modo. I belong with Zora. And now I am going back to be with him. Roxas, I need you to do me a favor. All those hearts that I've captured Kingdom Hearts set them free. Kingdom Hearts free them? It's too late. You need to undo my mistakes. But you can't let Zimless have Kingdom Hearts. You can't. Goodbye, Roxas. See you again. I'm glad I got to meet you. Oh. And of course, Axel too. You're both my best friends. Never forget. That's the truth. No. Shio. Who else will I have ice cream? This cazzo del gelato. da blu a rosa ma a un certo punto sembrava che shion gli fosse preso il matto e voleva assorbire roxas invece si è in qualche modo sacrificata cioè ci manca un pezzo gliel'ha regalato cosa più dolce cosa più dolce del gioco quindi lui si è alleato con ricco e topolino perchè questa è la scena segreta di kingdomers 1 non ti distrarre che stai a precipita perchè ricco riesce a usare il keyblade non ti distrarre? beh anche kingdomers 1 è stato quel momento che lui riusciva a usare il keyblade ma non... si sa ma non dovrebbero ci essere sti ricordi ma in che senso? ah tutti si ricordano di shion non ti distrae ma non ti distrae ma non ti distrae ma non ti distrae ma non ti senti Perchè è passato il keyblade se si stavano affrontà? Mancano dei pezzi! Alla prossima! E che è solo uno? E che bella, erano due? E lui c'era due Oh, non fa male a Riku, guarda ti prendo a sberle Cosa? Devo lanciare la potenza nel mio cuore La potenza scura che ho guardato E anche se mi cambia per sempre I have accepted it I can't look in Blade Diz, he could feel Sora Oh, he told you how he felt, did he? Ridiculous, nobody cannot feel anything If he had met Sora, things might have been different Roxas, don't be sad I came from you and Sora I am you, the same way that I am Sora You'll forget me, but the memories themselves will never go away Memories of you and me will always be together Forever, inside him And he will always be together Un altro sogno di loro. No, no, no. No, 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 no. Ho capito tutto e non ho capito un cazzo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. E' tutto così complicato. No, no, no.